Passiamo al primo punto del giorno. Anzi, prima di passare a primo punto del giorno, ai sensi del piccolo 176, 1,2 del 20, ci sarà una delitura di giunta urnale. Il decreto di annunzato, come probabilmente sono descritto i bisogni da Evo, dal punto di riserva presidito dall'ordinanza della Commissione dell'Ecercizio Fianzale del 17, capitolo 21-15, a corone dei sottotitoli segnali camminati, capitolo 14-15, a sistemare i bisogni reali, articolo 16-56, in attenzione della Commissione dell'Ecercizio Fianzale del 17, capitolo 21-15, capitolo 28-1, operazione di politica sanitaria, 5-100. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.